Buon pomeriggio e bentrovati in diretta dalla redazione di Telebari e Carmine Sposito, il nuovo questore di Bari e Napoletano di origine. Oggi il primo incontro con la stampa, Sposito si è definito il questore degli altri, rimarcando l'importanza del rapporto diretto con il cittadino. Ma sentiamo le sue dichiarazioni. Tutto fare di più e fare meglio, perché soltanto stando accanto ai nostri cittadini noi avremo il senso delle nostre attribuzioni, avremo il senso delle nostre funzioni e porteremo a casa un risultato sicuramente più eloquente e sicuramente più qualificante. L'impiego di risorse umane e tecnologiche in vista di una strategia antiterrorismo? Assolutamente sì. Il tempo ovviamente è quello di impegnarsi in questi settori, non solo quindi quello della criminalità organizzata, della criminalità comune, diffusa, ma anche della minaccia del terrorismo. Ci deve essere un impegno sicuramente non soltanto di risorse umane, ma anche con tutti gli strumenti che la tecnologia può offrire, quale contributo, a un'attività anche preventiva soltanto. Vede, non esistono delle indagini che si possono chiudere in senso negativo. Le indagini di per sé offriranno uno spaccato sempre su una realtà, poi magari si riveleranno non utili per un risultato, ma avremo sicuramente allargato il nostro fronte, il nostro orizzonte conoscitivo sui vari fenomeni e questo è il nostro obbligo. Sit-in di protesta davanti allo stabilimento Bridgestone di Bari, dove 54 operai sono stati licenziati. Abbiamo assistito a un vero atto fascista, che ormai non si vedeva da quasi un secolo. Un atto intimidatorio da parte di una multinazionale come la Bridgestone, che ricordiamo ha preso per anni e anni milioni di euro di finanziamenti. Operai incatenati davanti ai cancelli dello stabilimento Bridgestone di Bari. Il colosso giapponese specializzato nella produzione di pneumatici non ha fatto passo indietro rispetto al problema degli esuberi e i tagli annunciati qualche mese fa si sono formalizzati con lettere di licenziamento per 54 dipendenti. Rabbia e delusione dei lavoratori che oggi hanno manifestato all'ingresso della fabbrica fanno appello alle istituzioni per ottenere la ricollocazione, linea condivisa da Alternativa Comunista che sostiene la protesta. Noi crediamo che la prima opportunità necessaria sia quella di reintegrare questi lavoratori. Noi abbiamo sempre contestato con il Comitato per il No, quello del No ai licenziamenti, un accordo vergognoso firmato dai sindacati che nei fatti dava la possibilità alla Bridgestone di fare il bello e il cattivo tempo, ossia licenziamenti e decurtazione del salario di secondo livello per chi rimaneva. Un calvario lungo tre anni, quello dei lavoratori della Bridgestone per salvare i posti di lavoro. Dal 2013 si sono susseguiti incontri e verifiche ministeriali, aziendali e locali fino all'assoluzione con tagli agli esuberi strutturali e il cambio della produzione. Ci è stata consegnata direttamente qui in azienda, io ero di turno notturno e mi è prevenuta una telefonata dallo stabilimento e mi hanno detto di presentarmi perché mi sarebbe stata comunicata la decisione presa. Adesso resta senza lavoro? Purtroppo resto senza lavoro, io come altri 53 colleghi più tutti quelli che sono stati licenziati in passato perché qua arriviamo a 500 licenziamenti in tutto. E passiamo alla cronaca, nascondeva cocaina in casa, per questo è finito in manette, dovrà difendersi dall'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Un 29enne di Modugno, già noto alle forze dell'ordine, arrestato dai carabinieri nel cassetto di un mobile, nell'ingresso, i militari hanno trovato tre dosi di cocaina pronte per essere spacciate, scoperti anche tra gli indumenti intimi, due dosi di cocaina. Ed emergenza migranti in Puglia, la situazione preoccupante lo denuncia Giuseppe Brescia, deputato del Movimento 5 Stelle, che presenta i dati dell'ultimo anno e una nuova proposta per un modello alternativo di accoglienza. Il servizio è di Serena Russo. Calcolare sulla base delle condizioni socio-economiche di ciascun comune italiano, rapportato al numero dei suoi abitanti, la possibilità di capienza. Poi, partendo dal totale di migranti presenti sul territorio, dividerli per il numero ottenuto, avendo cura di accoglierli in gruppi non grandi, per evitare il rischio di speculazioni, come già successo nel recente passato. Il Movimento 5 Stelle avanzerà nei prossimi giorni, la proposta al Governo, quella di un nuovo sistema solidale che superi le criticità oggi legate all'accoglienza, spalmandola in egual misura tra tutti i comuni. La Puglia, secondo il deputato Giuseppe Brescia, potrebbe essere in tal senso la regione pripista. E questa mattina i consiglieri regionali pentastellati accanto a lui hanno in conferenza stampa snocciolato i dati relativi all'ultimo anno sull'emergenza immigrazione, aumentata rispetto al 2015 del 78% sul territorio nazionale. Il 6% sono in Puglia. Una percentuale che con la chiusura della rotta balcanica non potrà che aumentare. bisogna fare qualcosa e subito ha esordito il parlamentare 5 Stelle. Dei 6.285 migranti presenti sul territorio pugliese, 2.431 sono nei CARA, 2.133 nei CAS, che dovrebbero avere la caratteristica della straordinarietà, e 1.721 negli SPRAR. Per i grilini, senza dubbio, il modello ideale da perseguire. La situazione è allarmante perché siamo sempre sotto emergenza in Italia, anche e soprattutto per quanto riguarda i migranti, essendo noi la porta d'ingresso dell'Europa, chiaramente abbiamo un grosso flusso. Siamo sempre stati in emergenza e di conseguenza oggi con l'onorevole Brescia si stiamo determinando e definendo quelle che sono le linee guida nazionali e regionali che vogliamo portare avanti circa questa problematica. Di pochi giorni fa il sopralluogo della consigliera Rosa Barone all'interno dell'hotspot di Taranto è del CARA di Borgo Mezzanone. Sovraffollamento, in una parola, il risultato. La capienza prevista è di 600 unità, numero effettivo 1100. Slitta di qualche giorno il trasferimento dei 90 migranti attualmente ospiti dell'Exit a Villa Ata Palese, che li ospiterà nei prossimi mesi. Uno spostamento che sta creando diversi mal di pancia, siano gli stessi ragazzi per una serie di incomprensioni sulle modalità di soggiorno adesso superate, sia per i residenti del quinto municipio che chiedono garanzie. Io ho rappresentato una serie di criticità per questo trasferimento perché l'amministrazione deve spiegare come 90 persone possano essere di colpo trapiantati in una realtà che tra l'altro è isolata per poter utilizzare i mezzi pubblici. Siccome abbiamo avuto delle esperienze precedenti dove gli ospiti del CARA per raggiungere la città di Bari hanno attraversato la Stata alle 16 con degli incidenti mortali, ha attraversato e ha fatto anche delle reazzie in alcune campagne nell'agro vicinale, mi domando se l'amministrazione ha valutato queste criticità e come intende porvi il rimedio. Tra l'altro ritengo che sarà opportuno predisporre così come per l'Exit un presidio dei vigili urbani. E sull'argomento torna anche Irma Milini, consigliera comunale d'opposizione. Il piano triennale delle opere pubbliche scrive in una nota stanzia come priorità 2016 ben 400.000 euro per lavori edili ed impiantistici per l'allestimento di un'area per ospitalità temporanea. Ricordo che già nei mesi passati era stata contestata da tutta l'opposizione la previsione di un'area temporanea migranti di fronte allo Stadio della Vittoria. È evidente quindi che se i migranti dall'Exit saranno trasferiti a Palese non sarà più necessario costruire l'area di fronte alle piscine comunali. Al prossimo Consiglio Comunale chiederò quindi, conclude, il ritiro del punto iscritto all'ordine del giorno sulla variante urbanistica. Perché continuare a credere nell'affido familiare? Se ne è discusso a Bari nel convegno organizzato dalla cooperativa GEA per offrire un'occasione di analisi dei dati nazionali e locali ma soprattutto di informazione e confronto sul tema dell'affido. Attualmente il servizio di aiuto creato per la tutela dei diritti dell'infanzia è rivolto non solo ai minori ma all'intero nucleo familiare di provenienza. E sono iniziate le operazioni per la tracciatura che consentirà di segnalare i primi 10 chilometri del lungomare cittadino. L'intervento è finalizzato a indicare i chilometri e 500 metri utili per tutti i runner che ogni giorno si allenano in riva al mare. Il chilometro zero è stato posizionato sul marciapiede antistante il Teatro Margherita. Passiamo allo spettacolo. Sarà un Bifest 8 e mezzo, il prossimo Festival dei Cinema a Bari dedicato a Vittorio Gasman, il servizio di Barbara Cirillo. 290 eventi, 397 ospiti, 55 registi, 62 trattrici, attori e soprattutto 2000 spettatori in più rispetto alla scorsa edizione. Il Bifest si gioca ai suoi numeri e vince. Un festival che al sud permette al cinema di raccontarsi e di essere raccontato attraverso le voci di chi il cinema lo fa. Chi non c'era mai stato è rimasto incantato dalla bellezza di Bari e dei luoghi del Bifest frequentati per lo più da giovani. Quei ragazzi su cui Ettore Scola ha sempre puntato. Un festival giovane ma che cresce ogni anno di più anche grazie a chi ne è ormai di casa. Voglio molto bene a Bari. E poi questo è un bellissimo festival, è vivo. Una settima edizione da ultimo minuto. Poco tempo per organizzare tutto rispettando al millesimo le procedure imposti dei fondi europei. 1.100.000 euro a cui si sono aggiunti 70.000 euro messi a disposizione dal Consiglio di gestione SIAE per l'organizzazione del tributo dedicato a Ettore Scola. Si riparte però da Vittorio Gasman. Sarà lui l'attore feticcio a cui sarà dedicata la prossima edizione, la numero 8 e mezzo. Tre progetti e anche lezioni di cinema interamente dedicate alla scienza e all'ambiente. Nulla si sa invece del nome del prossimo presidente del Bifest anche se in discrezioni vedono Giuseppe Tornatore come successore di Scola. Così come nulla si sa del nome dell'attrice regista americana che il direttore Felice Laudaddio vorrebbe portare a Bari. E se questo accadesse, l'unica cosa certa sarebbe un necessario incremento dei fondi destinati al Festival Internazionale di Bari. Le cose si fanno in tutte le famiglie, in tutte le regioni ma si fanno con i soldi che si hanno, non con i soldi che non si hanno. Il risultato è stato strepitoso. Qualche volta, peraltro, la scarsità aiuta a Guzza l'ingegno. Questo è il Festival Italiano di minor costo e di maggior successo nel rapporto con il suo costo. Questo è un risultato straordinario. Torre Amare è al fianco di Sea Shepherd per pulire la costa ai fondali. Ieri sul lungomare, la prima edizione dell'evento Liberiamo il mare, volontari, scout e cittadini si sono armati di guanti, pinze e bustoni per ripulire il litorale. Le condizioni meteo hanno impedito i sommozzatori di immergersi ma non hanno fatto desistere i volontari che si sono dedicati alla pulizia. Ed era la nostra ultima notizia. Il nostro telegiornale termina qui. Adesso spazio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Un buon proseguimento di giornata. Amici di Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di lunedì. Come sempre stiamo dando un'occhiata prima all'Europa dove il tempo nel complesso rimarrà buono. Alta pressione, tra l'altro clima anche gradevole. Guardate in molte zone, ci avviciniamo ai 20 gradi, in varie li superiamo anche. E per quanto riguarda l'Italia sarà anche da noi una giornata di bel tempo. Sole da nord a sud. Solo le regioni di nord ovest vengono lambite da alcuni sistemi nuvolosi atlantici ma senza grandi conseguenze. E anche da noi clima molto piacevole. Supereremo i 20 gradi. E anche al sud il tempo risulterà bello per l'intera giornata. Ampie zone di sereno in tutte le regioni e clima anche qua primaverile, anzi da tarda, primavera. Con questo è tutto ma state con noi su 3dmeteo.com a 3dmeteo.com Grazie a tutti.